Grazie. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Ha sbagliato il controllo finendo per trascinarsi la palla fuori. Beck Jones Perdono palla Nulla di fatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo Occhio al suo movimento Il tocco dentro Legge bene in una situazione pericolosa Intervento pulito sull'avversario Recupera palla Tras al centro Recupera e spazza via Ottima lettura, recupera il pallone Interessante il tocco verticale Anticipa bene, con senso della posizione questa giocata Bec Rami Giostrano per cercare di creare spazi Lo stesso pallo è infructuoso e perdono il pallone Possesso è regalato Rami Pinzi Ciannone Si mette bene sulla traiettoria qui La spazza via La gioca profonda verso l'attaccante Ottimo l'intervento del portiere Sfruttano l'errore in fase di palleggia e recuperano Pinzi Intercetta bene il passaggio e non era facile Rami Era fallo ma c'è il vantaggio Recuperano bene palla Padoin Iaskelein Ha spazio per andare Muovono bene il pallone La perdono Rami Occhio al pallone per il possibile vantaggio E si sblocca Dunque il risultato Rivediamola La parte finale dell'azione che ha portato al gol E come vediamo Ha affreddato il portiere Con questa conclusione Da distanza davvero ravvicinata Ed ecco dunque Arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 Ottima lettura difensiva Fallo non fischiato Vantaggio Può sfruttare le corsie laterali Rami Ci sarà un tiro dalla bandieria Occhio al cross in mezzo Ha risolto problemi con una grande giocata Buon morci Cercano di rendersi minacciosi Nell'area avversaria Palla importante Dice Dino Può correre lungo l'auto Vuole centrarsi qui Può segnare da lì Deviazione provvidenziale Che evita un gol fatto Trova a colpire al volo La risposta Ma non è finita Pallone che è uscito Ma qui ha sprecato davvero Un'ottima chance Ricorrono al pressing Allontanano il pericolo Giocano col cronometro adesso Con i passaggi Un minuto di extra time L'arbitro chiude le ospedità Per quanto riguarda questo primo tempo L'arbitro chiude le ospedità Secondo tempo che ha avuto inizio Grande recupero difensivo Situazione complicata Jones Pallone intercettato Trotta Attaccano con più elementi Iaskelein Maduro Intervento perfetto Al momento giusto Totti Jones C'è il recupero del pallone Super giocata La mette in area E trova il gol E' arrivata la parità Siamo di nuovo in parità Grazie al gol dell'uno a uno Accompagnano Accompagnano l'azione Può metterla da lì Ed è proprio un autogoll Un replay che non penso vorrà rivedere E' un autogoll sfortunato Ora deve lasciarsi tutto alle spalle E concentrarsi solo sulla partita Il punteggio adesso Il pallone è uscito Sarà rimessa Male il portiere Vediamo se ne approfittano Nuovo possesso per loro Padoin Iaskelein Occhio al tiki-taka prolungato Lascia partire il traversone Sventa il pericolo Porta via la palla Con un ottimo tackle Trotta Pinsi Contrasto deciso La mette sulla gorsa del compagno Prova il volo Il portiere non la tiene Palla ancora viva Non si fa sorprendere Tilo dalla bandierina corto L'assistente Tira su la bandierina Fuori gioco Corner battuto davvero male Non si possono sprecare così Certe occasioni La legge bene Ferma il passaggio Efficace il possesso palla Con una serie prolungata Di scambi E ci sarà dunque Calcio di punizione Da ottima posizione Prova Traiettoria che non sorprende il portiere Corner da sfruttare Se voglio incrementare il distacco Palla verso il centro dell'area Portiere che si esalta Su questa deviazione aerea Coefficiente di difficoltà Per questa parata Elevatissimo Grande intervento Sceglie il traseggio Cerca il traversone Passaggio Intercettato Ancora 600 secondi Alla fine E il portiere Dice di no Provano l'arrembaggio finale Sono a meno uno E cercano il pari Sembrava un'accena interessante Come l'ho detto Entrata perfetta Palla in out Sarà rimessa con le mani Ciannone Vuole il tocco verticale Ed è gol Rete Replay che evidenzia L'intelligente palafiltrante A tagliare la difesa Nell'azione del gol E poi è riuscito lo stesso A battere il portiere Nonostante fosse pressato Bravo Siamo 3 a 1 Magari non finirà così Pallone importante Per provare a riaprire la gara Ci sarà la tush La rimessa con le mani Si butta in avanti La mette in mezzo Traversione che finisce Comodo Fra le braccia del portiere Ancora 120 secondi alla fine Bec Totti Conclusione preda Facile del portiere Posizione irregolare Che non è sfuggita L'assistente E non era facile Traversione al centro Finisce qui Ottimo risultato Anche grazie al fattore cappo Grazie a tutti